bentornati bentornati sul sul canale bentornati allora è stata è stata definita è stata pubblicata è stata ufficializzata finalmente la la nuova divisa home per la stagione 2024 2025 dell'inter ovviamente a marchio nike confermati totalmente tutti i dettagli confermata tutta quella che era stata la l'indiscrezione degli ultimi mesi finalmente l'abbiamo vista anche indossata dai modelli sia i femminili che maschili per quanto riguarda gli uomini ci sono lautaro bastoni e barella è disponibile già da oggi solo per una certa fetta di voi gli abbonati e un'altra nicchia poi dal 26 sarà disponibile per tutti quanti sullo store c'è la conferma anche per quanto riguarda il pantaloncino con richiamo del disegno che rimanda a san siro sulla parte sinistra e belli calzettoni tutti neri cerchiati da tre linee di azzurro un po come nel 2009 2010 ricorderete c'erano due linee questa volta sono sono invece tre bella bella devo dire come come disegno come divisa nulla da dire se poi dovete chiedere a me un un giudizio avrei preferito altro molto semplicemente io sono onesto ragazzi non posso stare qui a fare marchette lo sapete mi conoscete non sono un marchettaro non sono un va tutto beh soprattutto sotto l'aspetto stilistico delle maglie io sono un intransigente ma attenzione non intransigente sulla variazione del tema ma sul tema secondo me il tema dei kit della prima maglia calcistica devono restare immutati ad eternum per sempre perché fa sono identità sono riconoscibilità non è solo il colore a fare identità ma anche la costituzione della forma questo è il mio giudizio sindacabilissimo parliamo di gusti quindi non parliamo di dogmi non parliamo di regole non parliamo di leggi scritte scolpite nella pietra assolutamente io sto facendo un video ci metto la mia faccia e dico quello che penso io che non vuole essere un'attività di convincimento di prosetilismo verso la mia il mio tipo di pensiero vi dico il mio tipo di pensiero perché so che comunque nel bene e nel male interessa e quindi ve lo ve lo comunico ecco il mio tipo di pensiero è che secondo me basta veramente poco per entrare nella leggenda bastava poco per fare un kit pulito essenziale e soprattutto aderente al cento per cento e non al 75 per cento ma al cento per cento con la storia del club perché perché già c'era un dettaglio che andava a non solo impreziosire non solo ad abbellire ma a rendere unica la divisa di questa stagione cioè la doppia stella molto semplicemente per esempio sul logo centrale e lo scudetto italiano sul sul cuore tanti hanno criticato quello io non mi sento di criticare ecco da quel punto di vista questo significa secondo me andare agire non sulla sostanza ma sulla forma no ecco quello è una variante quella è una variante sul tema che a me non dispiace ma al di là dispiace o non dispiace ci può stare quello sghembo quello quelle linee tratteggiate non in maniera verticale sulla parte sinistra della divisa a me da un fastidio devo essere sincero con tutto che c'è una c'è un senso non è che è fatto a caso c'è un senso anche ampiamente spiegato non piace a me non piace proprio perché secondo me in questa particolare forma in questa particolare stagione l'inter non ha bisogno di andare a cercare quel particolare che la distinguesse no da annata annata perché già c'era è il primo anno con la doppia stella allora questa diciamo che secondo me c'era bisogno di comunicarlo ai ai creator di 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 nike sappiate che questa questa divisa più di altre passerà alla storia come è passata la storia quella della prima stella come è passata la storia quella del centenario ecco quindi utilizzate mi raccomando molta cura perché questa sarà la divisa storica dell'inter del primo anno con la doppia stella ad esempio nel dentro il luogo dell'inter c'è il pitonato no che ricorda la 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 membrana del serpente dentro lo scudetto italiano c'è il 20 in basso rilievo bellissimo no tutti i dettagli veramente apprezzabile anche l'oro mi piace con il bordino dietro col richiamo del bordino dietro al font sia di numero che di nome d'oro con il numero il nome bianco e mi piace tantissimo questa questa cosa la io la 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 vivo come una sporcatura la vivo come un qualcosa di ridondante proprio perché non c'era secondo me bisogno in questa particolare stagione di andare ad accentuare ecco secondo me è troppo si aggiunge particolarità a particolarità invece sarebbe stato il caso di andare a creare sono me un kit magari con le strisce più doppie un po quelle storiche degli anni 60 e con la doppia stella secondo me sarebbe stato veramente sarebbe stata la scelta la scelta vincente che andava a coniugare la storia lo stile storico dell'inter con il presente con l'attualità che la doppia stella c'è poco da dire e da questo punto di vista sicuramente ripeto poteva venire fuori veramente una roba non dico che questa non è bella in sé per sé mi piace come divisa non mi piace come prima divisa dell'inter della seconda stella gusti sono gusti perché da poi vista ragazzi poi vista indossata non manco ce pensi più ecco manco cioè se devo ragionare da collezionista da amante delle divise sapete che io faccio collezioni di di maglie in particolare vintage io qui davanti seguise giro lo sguardo o per esempio quel blackburn di di shirer storica perché l'anno della vittoria della della premier league e immaginatevi quella divisa invece della della consueta separazione bianco e e blu una roba tipo orizzontale verticale un po monaco un po verder brema con con il disegno un po samp do no invece quella divisa poi passerà la storia pure questa non c'è dubbio si fa si far si fa per ridere si va per stare in compagnia però questo è il mio il mio giudizio ripeto sindacabilissimo fatemi sapere voi cosa ne pensate ripeto ci tengo a questa divisione tra ti piace in quanto tale e ti piace in quanto prima divisa dell'inter il primo anno della seconda stella sono due cose differenti perché a me può piacere ti piace il cocomero sì però te lo mangi come frutta te lo mangi tra la pasta e il secondo questo è il senso quindi fatemi sapere cosa ne pensate anche voi e se vi va iscrivetevi al canale se vi va mettete like se vi va condividete se vi va attivate la campanellina se vi va per un sacco